Maurizio Ughi, l'abbiamo sentito parlare del futuro del settore negli apparecchi di intrattenimento, l'introduzione delle videoloterie, ecco, spazio per il gestore sembra non ci sarà, almeno non nella stessa forma attuale. E' il ruolo che non c'è, non è che non c'è lo spazio per le persone che fanno i gestori o per le società che fanno i gestori in questo momento. Il ruolo non è previsto nella normativa, perciò è evidente che si chiamerà in un'altra maniera. Io ho soltanto sostenuto questo nell'ambito del convegno. Ritengo che la loro esperienza sia utile per aprire delle nuove sale, per andare nelle sale di gioco. Però in questo momento il quantitativo, non complessivo, ma un bel quantitativo sarà per le sale bingo e per le agenzie di scommesse. Consideriamo che le agenzie di scommesse sul territorio sono circa 2.000, le sale bingo sono altre 200, cioè 2.200 sale che possono ospitare tutte queste videoloterie. Il gestore, come si chiamava a suo tempo, perciò per questo non si può più chiamare così sia per normativa e perché dovrà avere un altro ruolo, avrebbe dovuto trovare i siti dove collocare le VOLT, avrebbe dovuto trovare ovviamente le macchine, i giochi, come ha fatto fino ad ora. Sono tutte cose che sono già in capo al concessionario e alle quali il concessionario è già assolto. Perciò il gestore, come l'attuale gestore, come persona, come società molto esperta sul territorio, sicuramente saprà dare tutte le indicazioni per arrivare a obiettivi diversi e con ruoli diversi. Ma non è lo stesso ruolo. Ecco, le videoloterie completeranno l'offerta dei centri di gioco di SNAI. Comunque ci sarà una quantità di videoloterie riservata anche ai gestori di SNAI? Sì, noi abbiamo messo da parte un quantitativo per accontentare alcuni gestori che ce l'hanno chiesto. Ovviamente i gestori sono stati con noi e ci hanno fatto crescere in questo settore e noi non li voltiamo sicuramente alle spalle. Mi auguro che nel tempo noi riusciamo a avere anche ulteriori diritti in modo tale per mettergli ancora più a disposizione degli attuali gestori che in proprio, come sostengo da prima, cambieranno ruolo, potranno avere anche magari delle loro sale e noi potremmo mettere i nostri diritti VLT all'interno delle loro sale. Ecco, per concludere passiamo alle scommesse. Una provocazione, si parla in questi giorni di Maurizio Ugi, un po' filo Stanley? Io sono, veramente non sempre stato filo Maurizio Ugi, anzi sbagliato, non filo Maurizio Ugi, filo SNAI perché questo è il mio ruolo e da sempre faccio questo mestiere. Io sono all'interno di regole di Stato, vendo prodotti con marchi dello Stato, con un marchio dello Stato, si chiama AMS, tutti i ticket che la mia società emette e gli altri concessionari emettono con il marchio dello Stato, che è un marchio performante, di garanzia, di regole uguali per tutti i concessionari e conseguentemente per tutti i giocatori e perciò per tutti quelli che si avvicinano alla scommessa. Altri operatori che comunque molto abili a trovare gli spiragli fra le normative, fra tutte le leggi che possono esistere, magari anche fra tutti i vari tribunali, che magari uno dice una cosa e l'altro dice completamente la cosa, completamente opposta sullo stesso argomento, molto abili in questo senso, non vendono prodotti concessionari di Stato, praticamente non vendono prodotti AMS e perciò fino al momento che non saremo nella stessa classificazione tutti venderemo o tutti non venderemo prodotti, venderemo prodotti autonomi, perciò di impresa, o venderemo prodotti per conto dello Stato, cioè io non mi posso ritrovare, non posso essere dalla parte di nessuno e sono dalla parte di quello che è appunto la vendita dello Stato. Vedete, io e un concessionario vende scommesse dello Stato, la remunerazione cambia fra le scommesse al totalizzatore e le scommesse a quota fissa. Nelle scommesse a quota fissa la remunerazione è incerta, c'è un'alea e il concessionario si assume quest'alea, ma ogni biglietto che viene venduto è un biglietto dello Stato italiano, tanto più che lo Stato italiano non è che controlla le scommesse, ma autorizza la vendita, perché tramite il sistema di Sogei e i sistemi dei concessionari la scommessa viene autorizzata. Così non avviene negli altri, né in quelli che vengono sul territorio italiano e lavorano, io ritengo, al limite della regolamentazione, perché tanto più che tante volte vengono anche chiusi, a volte riescono a essere riaperti, in alcuni casi sì, in alcuni casi no. Perciò comunque vendono prodotti di una società, noi vendiamo i prodotti di una società di Stato, dello Stato, perché è il monopolio dello Stato, perciò finché non c'è omogeneità di raffronto non mi posso confrontare con loro. Comunque il regime concessore rimane quello valido? Io ritengo che per lo scommettitore il fatto di avere una garanzia e di avere delle regole non fatte da un'impresa, magari io mi auguro che si fiderebbero della nostra impresa, perché da tanto facciamo così non abbiamo mai tradito uno scommettitore, anzi siamo sempre stati dalla parte dello scommettitore, però comunque avere delle regole imposte dallo Stato e sapere, per un cliente, sapere che quando si avvicina a una scommessa c'è una regola uguale per tutti e vengono trattati quelli che vengono a giocare, il giocatore che gioca tanto, il giocatore che gioca poco, il giocatore che si avvicina la prima volta a una scommessa, viene trattata con quelle modalità e non le deve studiare di volta in volta a seconda delle regole del singolo impresa di scommesse, credo che sia un grosso vantaggio e perciò vendere dei prodotti con un marchio dello Stato penso che sia una buona cosa e io sono molto d'accordo. Poi si può discutere com'è la distribuzione della vendita sul territorio, questo è un discorso sempre aperto con lo Stato e magari che a volte ci vede come controparti in questo caso dello Stato, ma secondo me, ritorno a dire, vendere un prodotto con un marchio dello Stato e con regole uguali per tutti è un problema di trasparenza, è un problema sicuramente di garanzia, è un problema che piace all'acquirente di questo prodotto. Grazie. Prego. Grazie.